Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video Signori, a grande richiesta, me l'avete chiesto in tantissimi Amate il cringe, quella roba che proprio vi si infila proprio dentro l'anima Ve la riempie, lo so che lo amate E proprio per questo oggi siamo qui per reagire Non ai TikTok cringe di Roblox Stavolta proprio specifici Oggi andremo a reagire, come avete visto dal titolo Ai video di TikTok più cringe Di Roblox sì, ma Roblox Brookhaven Italia Quindi andremo a vedere tutte quelle storielle che fanno tipo i bambini di 4 anni innamorati Ovviamente senza insultare ragazzi, noi ci divertiamo, ci facciamo 4 risate Non insultiamo nessuno perché vogliamo bene a tutti Però capite bene che io se ho 24 anni e mi guardo le storielle cringe Mi cringe, non ci posso fare niente Iniziamo subito con questo video Che cercando Roblox Brookhaven Nita Mi spunta l'amore della ragazza PT1 Potrebbe esserci il copyright Quindi questa canzone magari verrà rimossa Ma tanto l'audio è staccato Quindi si inventerà qualcosa il mio editor Vai! Sono a leggere qualche cringe E già iniziamo malissimo Vediamo se troviamo un ragazzo Allora già il fatto che sia ripreso col telefono E neanche con tipo Kain Master È grave Bella sta canzone Non c'è nessuno là in ora Uffi Amore è pronto a tavola Ma scusa mi hai detto che non c'era nessuno là in Uffi Vabbè Ho capito Arrivo a classica storia della mamma divorziata Ma io non ho capito Ma perché la storia tipo base degli RP su Brookhaven È la mamma divorziata che cerca il padre che accudisce la sua figlia Sta cosa non l'ho mai capito Io ogni volta che entro in un server di Brookhaven C'è almeno una tipa che fa finta di essere una donna di 50 anni Con una figlia Tipo che è un avatar minuscolo E cercano sempre uomini Per non lo so Per fargli da padre A ste povere bambine Madonna ma c'è una carenza di genitorialità Dentro sta piattaforma calamorosa Vediamo Arrivo Cos'è nel bilanio nove tre quarti Scendi le scale Ti sei infilato Dentro al muro Dove devi andare Ad Hogwarts Vabbè Buono Gnammi Ok Bella la bocca da din don Ma chi è questo Boh Ma com'è vestito poi Cosa si scrive la bambina Vado io vado io Ma almeno riprendi bene Ti prego Ma poi vado io vado io E si risiede in un'altra poltrona Ma com'è fatto sto video Ciao Posso entrare un minuto Ma sei già dentro Mi piace la musica mega Ma come certo vieni Ma è uno sconosciuto Cosa ci insegnano sin da bambini Sin dall'inizio Non aprire mai I sconosciuti E tu li apri Vabbè Certo vieni Vabbè Tieni Chiamami Tinei Tinei Cosa È il suo nome Ma che nome è Tinei Ma poi dovresti scrivere Chiamami Tinei al massimo Non Tinei chiamami Ma poi perché c'è la mascherina Siamo tornati ai tempi del covid Boh Ug Oh Ok Ma dove li vedete sti versi Vabbè Madonna la canzone è una hit clamorosa Io me la devo salvare È bellissima Cioè la canzone è clamorosa Raga Mamma io vado a letto Cioè Allora praticamente contestualizziamo un attimo Cioè allora Questo è quello che è successo È entrato È iniziato il video La mamma si lamentava di non avere uomini a sua disposizione Perché nessuno c'era online Tra parentesi Uffi Si scopre che questa bambina Ha delle apparenti abilità magiche Visto che praticamente per entrare nella sala da pranzo Si teletrasporta Si schianta contro il muro Tipo il binario 9 3 quarti di Harry Potter Suona un tizio sconosciuto che si chiama Tinei E lei va a letto Ok Cioè quindi in questo momento Noi a 34 secondi di video Abbiamo uno sconosciuto dentro casa E basta E lei va a dormire Ok Vabbè il dito suo doveva vedersi Già era abbastanza fake la cosa Proprio serviva che ci facesse vedere che era una persona Ok Ah ok Solitamente quando tolgo le finestre su Brookhaven Non è mai un buon segnale Però in questo caso immagino L'abbia fatto per Amore alzati a scuola Ma Scusatemi Ma Tinei che fine ha fatto Ragazzi si è perso qualcosa Cioè Durante l'editing di questo cortometraggio Si è perso Non lo so Si sono persi delle pellicole Ed è entrato un tizio in casa Siamo a mattina Com'è possibile Dov'è nascosto questo tizio Sotto a letto Sai che è scritto Giorno mamma Si Boh Ok La doccia A dopo mamma Ok Lei scende le scale con l'overboard Incredibile Penso che nella vita reale Finiresti in coma per 8 anni almeno Ok Giorno prof Io voglio assolutamente vedere la parte 2 Se io oggi non scopro come funziona E finisce questa storia Io chiudo il mio canale Quindi per favore Cortesemente Parte 2 Non mi dire che c'è la stessa canzone Ok Ricreazione ragazzi Grea Andiamo in bagno insieme Ok Ci sta Sono compagni di classe Vai tu prima Ma siete uguali Vabbè L'amore della ragazza Si chiama la storia Ok Occhi Oh cavolo Mike Cosa ci fa Mike Nel bagno delle ragazze Scusate Ciao bella Ma Mike esattamente come è vestito Boh Vabbè Ok Sembra l'avatar più generico Esistente su Roblox Proprio Vabbè Vieni qua dietro Allora Io prima di rimettere play Prendo le distanze E mi discosto Da qualsiasi tipo di azione Vietata E verrà commessa In questo video Vieni qua dietro Vai Cosa pensi di fare Cosa sono quelle emoji Tipo da riz di tiktok Vabbè Le tocca il Cosa 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 Ma poi scusami Il dito davanti alla fotocamera Tipo come per dire Questo è il sedere Rosa Oh mio dio Sta godendo Angelo Cosa sto vedendo C'è compiaciuto Dal fatto che un bambino Le abbia toccato il sedere In bagno Adesso in classe C'è come se nulla fosse Ok Vediamo parte 3 Boh Ma cosa sta succedendo Ragazzi E' ora di uscire Ok Una lezione mai O in bagno Si esce Brava Vieni Sali nella mia moto C'è sali nella mia Non sulla mia Nella mia moto Dove si deve mettere Dentro la marmitta O nel tubo di scarico Vabbè Comunque si presume Siano maggiorenni Visto che stanno guidando Comunque O almeno nell'età del consenso Si spera Ha la patente quindi Sono sicuro che hanno 8 anni Quelli che hanno fatto questo video Però E' una fantasia E' un gioco Quindi per favore Cos'è che ha scritto Aspetta Entra Questa è casa mia Baby Ok Bella Basta Così lei Proprio La risposta più fredda Che esista nel mondo Bella Dov'è il bagno Ok deve fare la cacca Mi sa Qua sali Donna cosa c'è La torre di la peronzolo Ma che casa è Sono troppo distratto Dalla canzone Vabbè Io dopo che finisco sto video Io ascolterò quella canzone Il lupo Fino a quando non me la toglierò Dalla testa Ok grazie Sì ho capito Le hai fatto vedere il bagno Ma non è che ci devi essere anche tu dentro Boh ma un po' di rispetto Vabbè La riprende anche mentre fa la cacca Sembra di sims Ok Mike Cos'è successo? Posso stare qua fino a dom Dom domenica O dom domani E poi scusami Tua madre In tutto questo ragazzi Siamo alla parte 3 E Tinei Non si è più visto eh Secondo me era un fantasma Ce lo siamo immaginati Scrivetemi nei commenti Se l'avete visto anche voi Perché magari Siccome sono le 3.20 del mattino Dico magari La mente mi gioca brutti scherzi Perché a sto punto Boh Certo Ma adesso viene a cenare Ok Vai Boh Sopra il letto con i piedi Vabbè Ok un hamburger Buono vero? Penso di sì Sembra invitante Quell'hamburger Io ho molta fame In questo momento Quindi Sì Dopo guardiamo un film Ci sta E' una bella idea Soprattutto tra Tra fidanzati E' molto bello guardare i film Io amo guardare gli horror Per esempio Da solo però Perché non mi caga nessuno a me Vabbè Cosa è un altro discorso Family Life Stanno guardando Ok In tutto questo Lei sua madre non ci pensa Cioè mia mamma probabilmente Se fossi stata a casa di qualcuno Da così piccolo Mi avrebbe tipo mandato 14 pattuglie di carabinieri Con tanto di ericotteri E camion della SWAT Quelli di GTA 5 Questa sta a casa di uno A caso Oppure sua mamma L'ha ammazzata Il tipo della prima parte Tinei Che faceva finta Di essere un idraulico L'ha uccisa nella notte Non lo so Ok Finito così Va bene Parte 4 c'è? C'è Amore ho freddo Ho sonno Vado a letto io Ok vai a letto Dammi per favore Censura questa roba Perché io non posso vedere Un avatar di Roblox Nudo Nel 2024 Sì Io non posso vedere Un avatar di Roblox Nudo Ti prego dammi Ok Si è messo il pigiama Per fortuna Spazzola i capelli Bello Mi piace il cambio look Molto Amore Buongiorno Ma esattamente Che pigiama è? Sembra una di quelle felpe Che vendevano su Amazon Tipo di tela Avete presente Quelle con i lupi E le galassie Che andavano di moda Nel 2015 Che tipo appena sudavi Ti prendevano fuoco Perché venivano tipo Dalle peggiori Dalle peggiori fabbriche Tipo di sfruttamento Buongiorno Andiamo a fare colazione Cioè questo ormai va a convivere Iniziato con sua madre Due minuti sono passati Niente Sua mamma si è discordata Ok Grazie Buono Ok caffè immagino Cioccolata Mi metto nel divano amore Non sembra un divano Quello lì Sembra che tu stia fluttuando Tipo non lo so Un saian Vabbè Ok Non si sente bene Oddio sta morendo Che è successo Amore andiamo all'ospedale Non sto bene What the f Ma cosa è successo Sta morendo Ora muore E la quinta parte Oddio C'è la quinta parte Ma cosa è successo Ma è morta Buongiorno Si sente bene signora C'è anche l'infermiera Ma che succede raga Ma che sta succedendo Non tanto dot Ma dot sono i monopattini Vabbè Ormai la sa memoria la canzone Where you are Tenga questa è sua fi Cosa Angelo Questo in due minuti ha abbandonato la madre E ha fatto una figlia con un bambino Sono scioccato Ma poi scusami Ma i figli non ci mettevano nove mesi per nascere E' molto ma molto ma molto ma molto cringe E qua ci siamo Grazie mille dot Arrivederci Cioè quindi praticamente non è che Cioè allora fammi capire Cioè per la quinta parte Sono passate E' passato un anno praticamente Dall'ultima parte Cioè non ho capito cosa Boh Amore Mo' vedi che quello l'abbandona palese Sì Hai partorito? Sì in un minuto a quanto pare Non si sa come Forse una specie aliena sta nascendo Su Brookhaven Andiamo a casa Che è tardi Ma in tutto questo La mamma della tizia Dov'è? E soprattutto Dov'è Tinei? Bella la cosa della moto Che si sta guidando Ok andiamo avanti però Comunque i bambini su Brookhaven Posso dire che dovrebbero rifarli Che sembrano delle tic tac Con un tosh Appiccicato sulla faccia Vabbè Tieni piccola Ok Fagli lo spruzzo addosso il biberon Cioè gli tipo Gli lo Vabbè ok Basta che I fraintendimenti qua sono proprio Si possono cogliere Come Spongebob Con le meduse alla rete Go go gaga Io in questo momento Sono combattuto tra la vita e la morte E basta Vi dico solamente quello Non posso dire altro Perché altrimenti questo video Verrà demonetizzato Ma chi vuole capire Ha capito Go go gaga Cioè vabbè Se tu cerchi questa roba su tic toc Ti spunta un suono simpatico Ho detto tutto Anzi facciamolo sentire Che forse ce l'abbiamo pure No non ce l'abbiamo Scherzavo Scusatemi E quindi che è successo? Piccola Piccola mamma Basta è finita? Ma è catanese Quindi immagino che è uscita la parte 6 No mi sa che non è uscita Passano sei anni Tre anni Parte 6 raga È uscita Buongiorno amore A scuola Ok Buongiorno mamma Cambiati amore Ma ha tre anni Ha tre anni Come fa a cambiarsi? Non sa camminare Tre anni Ma che infanzia ha vissuto Sta bambina? Ma chi è? 11 di Stranger Things Che c'ha i poteri E già quando era piccolo Era incredibile Ma come fa una bambina Come fai a dire a una bambina di tre anni di cambiarsi? Boh Cioè questa se la tratti così tra 20 anni la trovi nei video di Lisa True Crime Cioè che avrà fatto le stragi? Perché la mamma non se la cagava da piccola Boh Ma poi tutto sfocato Boh Scendi giù Ok Pancakes Tieni amore Mangia Madonna raga Un anno è passato la sua storia Cioè Prego Recca dal tuo telefono Eccolo Sali amore Ok Sono a scuola Ti prego Parte set No 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 Ma un tipo Ange Praticamente ha scritto Regà chiudo È stato bello State con voi Seguitemi sul profilo che mi taggo nella desca Addio È un tipo con la foto di Ciccio Gamer Del 2015 Con il cappello di Babbo Natale A un flauto Scrive E si gode Tutti hanno scritto Sium Sium Per fortuna Ma perché Poverina Aveva 3.710 follower Comunque incredibili questi tiktok Raga vi prego Ditemi altri nickname da cercare Per storie del genere Che io ci faccio le reaction Fatemi sapere se vi piace questo video E noi ci vediamo alla prossima Raga Ciao a tutti Ciao Volpi Benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui Per reagire A dei tiktok Di roblox Niente era da tanto che non facevo questo video De questi video Siccome so che vi piacevano E mi mancava farli Mi mancava un po' Per scherzare Su queste cose qua Mi sono detto Perché no Proviamo a farci un video Ho cercato su tiktok Robloxita Sono praticamente come vedete qua Un secondo Perché ho stoppato E detto aspetta che è grave la situazione Vediamo Cioè oggi spiamo alla gente Un video di Brookhaven Con la canzone del panettone Vabbè Vediamo No zio un attimo però Quindi è un tutorial Step 1 trovare una casa Ok Vai Troviamo sta casa Ma perché ci sono tutte queste canzoni La vittima La trasformazione Ma cosa sta diventando Un demone Raga ma cosa sta succedendo Ah ok Ti trasformi ok Bene Ma ha cambiato 40 canzoni Flinkron Sembra un po' tipo un acronimo di Kiron Chiama all'ottocento Novantasei Cinquantasei Zero Ma che Ma che sta succedendo lì dentro Sei E con nove euro Cosa sta succedendo Fa respirazione a bocca a bo Ma che E con nove euro Beautiful Ma poi perché sotto c'era la cosa tipo di Save the Children Boh Cioè non so se è più creepy La bambina che ha fatto sto video O il video in sé I tipi di prima sono scappati E quindi Quando puoi venire a farmi un po' i piedi Perché mi fa male il gallo Adesso è un onore Averti fatta giù Raga Un attimo Cosa è successo? Il creatore di Roblox è morto Hai mai visto questo gioco Roblox? Roblox Questo quadro è veramente agghiacciante Oh no Questo mini gioco di Roblox infatti Dovrei entrare in un antico ed inquietante hotel giapponese Ci ho già giocato e non fa paura per niente Ma la cosa agghiacciante È che un inquietante demone Chiamato Petapeta Cercherà di ostacolare Inquietante demone Chiamato Petapeta Cioè tra tutti i nomi che potevano scegliere Petapeta Che sembra tipo Non lo so Il nome di un peluche per bambini tra i due e i sei mesi In tutti i modi L'unico modo per salvarti Sarà quello di cercare di dare a questo demone Dell'antico cibo giapponese Ok Ma scusi ma lui non è quello che fa l'inquietante creepypasta di Huggy Wuggy Ma mica è lui Sì È lui È lui mi sa Non so se lo troverò mai Però mi sa che è lui Sì Lascio il nome di questo gioco in descrizione E fatemi sapere nei commenti Se volete altri video creepypiti Allora ci ho già giocato Creepypiti Altri Raga Volete altri video creepypiti di Roblox Fatemelo sapere nei commenti per favore Dai Amore 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 Cos'è sta roba Cosa vuoi? Vogliamo giocare insieme ad Adopme? No Non ho voglia No Cos'è Adopme? Non stiamo mai insieme Devo andare ciao a domani Boh gliela lasciate in un attimo Non gliene frega Ma poi che avatar sono? Perché non vuole mai stare con me Forse non sono abbastanza Vabbè magari non gli piace Cioè Vabbè chiedo ad Ellie di giocare un po' Dai chiedi ad Ellie Sono Ellie Rocks Ciao beauty Ciao amo come va? Ti ve Ma cos'è sta vostra musica triste So Ti vedo Ciao sta cazzaccia Ma che Che succeed Che ormai Luca non prova più niente per me Sei bellissima Come se E non vali la penna Per uno sfogato Ma cos'è una sfogato? Ma perché non hai messo un traduttore giusto? Parla in tedesco la tizia Grazie amo Meno male che ci sei tu Sai non me la conta buona Luca Non me la conta buona Luca Ma cosa vuol dire conta buona? Parte 2 No Grazie sto a posto così Parte 2 Ho creato una mappa Roblox Se giocate a Roblox La Corblox diventerà presto gratis per tutti Spero di no zio però Ho spesso di dire di dio Ehi Chloe Perché non sei venuta a scuola per due giorni? Oh Stavo male però Ora sto meglio Ok Oh beh Quando tu non c'eri Hai perso un sacco di cose Due giorni Madonna che Due giorni Che si è persa? Un anno? Come cosa? La preside Era così contenta E ci ha portato Tutti a Disneyland Scusa un attimo Aspetta Chloe Un attimo Cioè mi stai dicendo Che nel giro di due giorni Che è mancata Sta ragazza Voi siete riusciti A partire da Brookhaven A Disneyland In Francia A Parigi Vabbè Cioè solitamente Quando la mia preside a scuola Si sentiva di buon umore Al massimo Se ci andava di Non ci Spellevo A robe simili Ma il minion Registrato col telefono Dalla tv Poi dopo Hanno leggiato un razzo E lei ci ha portato Tutti sulla luna Madonna zi Cioè Non ti assentare più E la cattiva insegnante Di scienze L'ha lasciata Sulla luna Cosa? Cosa? Ma perché c'è i capelli Di un giudice Degli anni ottocento Che cosa? Poi Quando siamo tornati a scuola Michael Jackson È tornato in vita E ci ha fatto Un concerto privato Poi Ha dato tutti Una PS5 E ci ha dato 500.000 Robux Non so che dire Io che rido Della mia vecchia skin Una Slender Sì Brutta È la nuova Facciola vedere Vediamo il glow up Ma che Che quando mi usavi Ti credevi bella Queste persone Sono le stesse persone Che mi dicono Xiao Non dire parolacce Nei video Questa qua Ci avrà Sieno 5-6 anni E poi dobbiamo essere Noi youtuber Quelli educati Giusto? Ok Immaginate portare Gli occhiali Nel 2023 Cioè Fra Vedici Ma a parte Che il tuo avatar Ragli occhiali Ma che problemi hai Ma stai insultando Ma gli occhiali anche tu Forse da vista Intende Ma in ogni caso Non è una cosa Che dipende da noi Qual è il gioco Più difficile Di tutto Roblox Non lo so Siete pensando a qualche hobby A caso Tipo Taurofell Non ci siete neanche Vabbè non penso Il gioco più difficile In assoluto È un hobby Di nome Citadel of Void La Citadel of Void Dopo due anni Di lavoro È stata finalmente Due anni Zio Pera Sto Sto facendo un video Ci ha chiuso Aia Aia Sto Sto facendo un video Ci ha chiuso Aia Aia Ma che Ma cos'è Divertiti Vai Cade senza motivo È morto Ma cos'è successo Ma poi C'è la traduzione Il doppiaggio Che non corrisponde mai A quello che c'è scritto Come Oh Cioè ti sei innamorata Ma poi la mamma Con la maglietta anima È tutta quadrata Strana Smonca Vanno all'ospedale Ma poi sta musica Da 2012 Vabbè Aia Il piccolo Il piccolo Ma cos'è Qua 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 Raga mi si sta Io ve lo giuro C'è il mio cervello sta andando completamente in tilt Sono Doc Oddio quali sono Doc Suo figlio ha il cancro allo stagio 4 Come suo figlio ha il cancro allo stagio 4 E ride pure Ma cosa c'è da ridere Sta morendo Allora Dato che non deve preoccuparsi di suo figlio Vuole uscire con me Ci rendiamo conto no Che stiamo parlando di ragazzini Cioè è la gente Ha il coraggio di dire che Roblox in Italia deve per forza essere family friendly Ma vi rendete conto di cosa stiamo vedendo Ma VFF 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 Notare che sta sparando dietro perché ovviamente sta cliccando con Ho avuto il frost Dopo 4 mesi Ad essere stata hackerata Ma cos'è il frost Ma perchè sta cantando tipo con la voce fiera Ma cos'è Roblox sta cambiando logo E no Cerco fida Oh no Posso essere io il tuo fida Aspetta cos'è qua che succede Bella questa non l'ho mai vista Ma cosa ho visto Mamma senti posso uscire Ma che ci fa Roby qua Certo che si ma non apri la porta Grazie mamma Mamma posso giocare ai videogames Si ma non accedete alla tv Ma cosa vuol dire Ok grazie mami Ma come fai a giocare con la tv spenta Mamma posso fida Si ma non deve Cosa Si ma non deve Scusa Posso farlo questo Andiamo amore Cioè si è fidanzata con un'iguana Ragazzi cerco un high school italiana Preferibilmente con discord Ma sta twercando Ma andare a scuola nella vita reale no Ah guardate un falso fede Io non capisco perchè i server ita di brook Si trovano dalle 20 e 30 alle 7 di mattina Però possiamo dire anche che i server americani Sono stupendi se si vuole trollare Cioè ma non ho capito Una domanda Ma praticamente no Cioè tu per fare video su roblox Quindi che siano principalmente tiktok Cioè è accettato il fatto che tu non abbia praticamente nessuna proprietà linguistica Cioè tu puoi scrivere grammaticalmente come un ubriaco senza occhi E nessuno ti dice nulla E nessuno ti corregge nei commenti E se io per sbaglio faccio tipo un video su youtube In cui per sbaglio Sbaglio un congiuntivo Mi mettono in croce come Gesù Cristo a me Cioè cosa ha scritto Boh vabbè 1v1 con il mio ragazzo Oh no Questo è da hood Con il mio ragazzo Ma cosa succede? Ma l'ha ucciso o no? Ah Perché lei non ha un ragazzo Quindi ha voluto fare la gag Wow Sei incredibile Valuto da 1 a 10 i giochi di roblox Guarda Stai attenta Robby eh Perché qua finisce male Se li metti in un posto li metto in un posto Bloxfruit Decimo posto come minimo Secondo me è un bel gioco Un quinto posto sono merita Vabbè Sono merita Ci sta dai Perché è davvero incredibile Jaybreak non ci gioco molto spesso Però dai settimo Vabbè Attimo ci sta Ci sta Non so cosa sia Mi dispiace Ditemi Vabbè Nei commenti che gioco è Se lo conoscete Bloxburg Peccato che sia a pagamento Ma è un gioco incredibile Quarto ci sta benissimo Ci sta Vabbè Brookhaven Primo posto Brookhaven So che è uno dei giochi che porto di più Però non si merita il primo posto Nei Ecco meno male Secondo perché È bello È iconico Però finisce lì Brava I minigames ci stanno benissimi Sesti Sesti Ci sta Bene Dai Marder Mystery 2 Dai Madonna dai Primo Bravo Dai Bravo Non è Anche Natural Disaster È molto carino Natural Disaster Ottavo però in realtà Non si merita Nel secondo L'ottavo Ho detto Ebbè ormai Ecco Oh no Vabbè Lei lo metterà ovviamente Al secondo posto Però Mi dispiace Non è come ai primi tempi Godo Godo di brutto Zio Pera Godo di brutto Godo di brutto Guarda Spammo di like Spammo di like Solo per questa cosa Godo Godo È già Godo Che stai tutti soffrendoli Oddio Perché l'hai messo al nono posto Dai Andatevi a fare scammare Se vi piace farvi truffare Andatevi a fare truffare Va Basta Poi niente Secondo posto Non lo scopriremo mai Cos'è Vabbè Notare comunque La gente triggerata Nei commenti Non me l'aspettavo Robby Nono posto Boh Vabbè Ciò era uno Deve per forza Fare contento a voi Se non mi piace un gioco Devo dire per forza Che è bello Boh Derubbiamo le persone Su Brookhaven Belle stai canzoni Iniziamo guys Ma cos'è stai canzone Raga Ok Già Già Sentrare nelle case Meglio di me E questo è un punto a favore Hashtag fail Pannata Comunque la leggerezza Con cui lei entra A derubare le case Delle persone Con una borsetta È incredibile Vabbè Ma cos'è Sto capendo Ma chi è Ah è una bambina Che si finisce Pinky Ok Testiamo l'italiano Su Brookhaven Gatto Capelli Avocado Va bene Ok Cos'è Tacos Le 5 modalità Più giocata Di Roblox Ma perché ho fatto Quel verso All'inizio Tipica chat Con mia madre Ok Mamma Pk Mi hai chiamata Pk Significa Pk Esatto Ragazzi Mi fate un favore A tutti quelli piccoli Che stanno guardando Questo video Smettete di scrivere Perché in questo modo È veramente Imbarazzante Giuro Parla bene Parla bene Dai Un modo per dire Perché IT CSG Mamma Che significa Sta cosa Accendi i termosifoni Che sto gelando Ma posso sapere Perché si sente Sotto un terremoto Tipo Non ha senso Invece Si Nop Che cos'è Nop Lascia stare Hai acceso I termosifoni Si mamma Pk Ma si sente sotto La madre che parla Tra l'altro Si va Punto interrogativo Perché non scendi Un attimo Va bene Che cos'è Ti piace l'outfit So Si Asterisco Non correggere Con l'asterisco Almeno questo L'hai capito Lacrime di gioia Lacrime di gioia Lacrime di gioia Cioè questo video Gli ho fatto 20.000 mi piace Ma cos' Soldi O io Soldi Scusa Ehm Soldi Mia zia Grazie Grandissima Poverino Eh vabbè dai Chi sta Boh Quanto Per cosa Per te Sono gratis Beh Ragazzi può bastare Ci vediamo alla prossima Veramente Non so che cosa dire Boh Buongiorno Grazie a tutti